come conquistare qualsiasi donna in 30 secondi ragazzi non sono un don giovanni non sono il massimo esperto di rimorchio faccio lo psicologo poi un altro grande difetto che sono tendente alla monogamia però 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 dopo un bel po di anni di pratica psicologica psicoterapeutica posso provare a dare delle indicazioni agli amici uomini per riuscire più facilmente a conquistare una donna o più donne tutte le donne che servono per trovare una persona con la quale stai bene e impegnarti perché tanto alla fine senza il tuo impegno puoi solamente andare di fiore in fiore ma poi il livello di soddisfazione di approfondimento della relazione rimane molto basso comunque a mio avviso gli elementi che rendono un uomo affascinante agli occhi di una donna e che tipo ti possono essere utili per conquistare le donne sono quattro e andiamoli a vedere un po nel dettaglio poi sicuramente ce ne sono tanti altri tu scrivili qui nei commenti così li capiamo insieme e ci aiutiamo un po tra masculi primo la sicurezza personale e l'autostima cioè le donne sono attratte non dai debolucci ma dagli uomini che manifestano una certa sicurezza in se stessi ma non il big gym il palestratone colui che ostenta una finta sicurezza io li chiamo quelli i giganti dai piedi argilla perché poi sono emotivamente fragili e deboli ragazzi la comunicazione non verbale non si scappa se tu cerchi di sembrare più sicuro di quello che sei questa roba acqua dopo un po viene fuori e la donna ti sgama quindi il mio consiglio è se vuoi conquistare una donna lavora veramente sulla tua sicurezza personale e come si fa a lavorare sull'autostima dai un'occhiata a tutti gli altri video che ho fatto sul canale youtube psicologia e vita iscriviti alla community sai life perché lì ne parliamo ampiamente si possono fare tante cose per migliorare la propria sicurezza personale e la propria autostima perché se ti sforzi di apparire sicuro non funziona secondo le abilità comunicative che puoi sviluppare saper usare bene la tua voce saper comunicare a livello non verbale riuscire ad ascoltare quanto è prezioso ragazze ditemi se è così un uomo che sa ascoltare che fa sentire la donna capita anzi che la capisce veramente quindi il dono che non è un dono è una cosa che si allena con la psicologia dell'empatia cioè la capacità di entrare e uscire nei panni dell'altro quindi se vuoi conquistare una donna devi imparare a comunicare my friend devi imparare a usare bene le parole devi imparare ad usare bene il tuo corpo la gestualità a saperti comportare a livello comunicativo cogliere le sue sfumature saper leggere il suo comportamento non verbale tutte competenze che si imparano ok terzo l'integrità e la vitalità le donne ditemi se è così ragazze sono attratte da persone vive vitali e non la persona depressa che sta lì chiusa dentro casa in un angolino che non respira che non viene fuori che non fa proposte che non ha interessi che non legge che non viaggia che non si informa che non è curioso basta parlare solo di calcio basta per cortesia leggiamo anche dei buoni libri andiamo al cinema a teatro cerchiamo di interessarci agli sport coltiviamo le nostre passioni perché una donna è attratta da quello che c'è dietro la nostra facciata e cioè tutto quel mondo ricco interiore che noi possiamo avere e le donne quando trovano un uomo così dicono oddio caspita ma cosa ho trovato trovato un uomo che è finalmente un uomo con la u maiuscola che ha degli interessi che non mi si attaccherà addosso come una cozza e che è in grado di sopravvivere anche da solo quindi lavora sulla tua integrità morale psicofisica e sulla tua vitalità quarto e ultimo aspetto ma non meno importante è la cura di sé ora non è che dobbiamo andare sempre tutti quanti in giacca e cravatta e con il profumo all'ultima moda però cari amici è molto importante la cura di sé la cura del dettaglio il volersi bene quindi la pulizia l'igiene personale le donne sono molto attratte dagli odori dal profumo da quello che noi emaniamo che non è solamente la roba che ci spruzziamo addosso ma il tuo profumo deriva dal fatto che tu ti prendi cura di te che ti lavi che ti coccoli che ti vuoi bene che ti dai valore che ti dai importanza ecco qua dove sei lavagnetta perché come dice isabel ayant per le donne il miglior afrodisiaco sono le parole e aggiunge che il punto g delle donne e nelle loro orecchie chi lo cerca più in basso è destinato a fallire fammi sapere come vanno le cose ciao e buona vita